iniziamo malissimo però i murazzi che vorrei sono non così perché l'hanno già detto tipo 15 persone nei video però sono con una spiaggia fatta molto bella che quando piove incredibilmente non è impermeabile ma resiste alla faccia di tutti quelli che dicono che non è vero poi vorrei arci ai cs che collaborano e che creano una roba fighissima con serate pomeriggi tutto il giorno non sono di parte poi vorrei legalità e arte e creatività che si contrappone ai pusher che ci stavano tipo ammazzando due giorni fa perché ci circondavano e ci guardavano malissimo e noi andavamo avanti con i nostri laboratori e poi vorrei vedere tutta la gente che mentre ero in spiaggia tranquilla sull'aldraio in un momento di pausa ringraziando il dio stavano lì e passavano famiglia anziani bambini ragazzi giochi così li vorrei voi nel muratiche vorrei ogni giorno un mega rave